allora ragazzi buonasera a tutti quanti buonasera a tutti voi purtroppo Matteo non ce l'ha fatta non è riuscito nell'impresa di dibattere il numero uno mondiale colui che comunque oggi ha dimostrato di essere in assoluto il più forte senza una minima ombra di dubbio quindi parliamo ovviamente di Novak Djokovic non è riuscito come già detto in precedenza Matteo Berrettini nell'impresa io ritenevo questa impresa come realmente quasi scalare l'Everest perché giocare con Djokovic è realmente difficile giocare con questo mostro è difficile innanzitutto perché è un giocatore non solo che fisicamente sta al top ma parliamo anche di un giocatore molto freddo con una grande freddezza e qualitativamente parlando è un giocatore incredibile giocatore che tutti oggi noi abbiamo visto che nonostante Matteo servisse a 220 km orari lui in ogni modo riusciva a ribattergli la palla e quando poi si metteva magari l'incontro quindi si metteva lo scontro sullo scambio alla lunga Berrettini soffriva e perdeva perché comunque Djokovic è un giocatore che qualitativamente parlando e poi ha una testa immensa, una grande testa un giocatore che non esce quasi mai fuori di testa, di capa e quindi è un giocatore posso dire a 360 gradi perfetto purtroppo ripeto non ce l'ha fatta Matteo non è riuscito nell'impresa però tanto di cappello a questo ragazzo che è riuscito ad arrivare in una finale di un torneo prestigiosissimo quale quello di Wimbledon e ci è arrivato meritatamente dimostrando anche di non solo fisicamente di essere un giocatore in grande spolvero ma anche qualitativamente ha dimostrato di saper giocare a tennis di essere molto 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 migliorato con Gio tanto di cappello a Matteo che anche oggi si è venuto a giocare una finale senza perdersi di animo dimostrando anche lui comunque di essere un giocatore che è migliorato molto qualitativamente deve crescere sicuramente ma che fisicamente ha dato filo a torcere a Djokovic per il resto ovviamente il numero uno al mondo Djokovic ha dimostrato di essere una due spanne sopra Matteo ma soprattutto perché ha dimostrato di essere un giocatore quasi intoccabile un giocatore difficilmente che lo riesce a mettere in difficoltà Matteo ci è riuscito un pochettino ma dopo abbiamo visto che alla lunga Djokovic ha preso il pallino proprio del gioco in mano e ha vinto meritatamente purtroppo c'è questo da dire comunque complimenti a Matteo ragazzi ugualmente ha scritto la storia ha scritto una grande storia speriamo che questa grande storia continui che Wimbledon la prossima volta se si arriverà in finale porterà più fortuna a questo ragazzo che se la merita ciao ragazzi